Intanto gli autori che ha scelto Ediciclo per questo incontro sono appunto Tiziano Fratus, un personaggio che è un poeta, scrittore, divulgatore da poco anche personaggio televisivo. Realizza per Geo & Geo, la trasmissione pomeridiana di Rai 3 dei brevi reportage su alberi notevoli e straordinari collocati in varie regioni italiane uno per regione, vero Tiziano? E poi è in grico Camanni che è alpinista, giornalista direttore di riviste importantissime per il mondo della montagna come Alp, l'Alpe poi con il romanziere, scrittore, scrive su quotidiani, insomma hanno entrambi una qualità che io invidio a tutte e due loro, sono estremamente prolifici, io invece che sono una pigra mi inchino di fronte a tutta questa capacità veramente di raccontare. Allora questi due titoli che vi ho mostrato prima sono due piccoli libri della biblioteca del viaggiatore, piccoli ma molto densi e di taglia perfetta per essere infilati in tasca, nello zaino, per essere messi in borsa e leggeri anche, quindi leggeri ma densi e che si possono anche un po' ciancicare, sottolineare, insomma portarseli appresso e farli vivere con noi. Qui parliamo di due scrittori viaggiatori che con la sensibilità del poeta e la precisione del catalogatore che ascriviamo a Tiziano Fratus e la conoscenza dell'alpinista e dello storico e del romanziere che invece caratterizzano maggiormente i gricocamanni, si muovono nella natura, in pianura, in colline, in montagna dove ci sono alberi e boschi e fin oltre il limite della vegetazione, insomma sopra i 2000 metri, no? Dove i grandi alberi non ci sono più, se ci sono sono veramente una rarità assoluta e invece dominano tra le rocce, gli arbusti e le praterie. Ecco, loro sono autori molto diversi ma con alcune parentele secondo me cioè i loro libri raccontano il bosco, l'albero, la montagna disegnando dei mondi densi di riferimenti storici e letterari perché entrambi hanno questo talento del divulgatore che con leggerezza racconta tante storie con incursioni in ogni sorta di letteratura e uno stile di scrittura che io trovo che mi risuona molto, che mi piace molto e mi sembra anche molto contemporaneo. Però in tutto ciò ci sono anche, non voglio dire che i loro libri, alcuni dei loro libri siano delle guide perché non è assolutamente così, ma servono anche come guide, cioè quando tornando a Tiziano lui parla dell'arice di Pietra Porzio, ti dice proprio dove devi andare, cioè fai quella strada lì, parcheggi qua poi fai 200 metri, poi c'è la chiesa, poi giri a destra, non prenderla prima perché se no ti perdi, prendi la seconda va che ti va, un passo avanti e tra indietro e finalmente arrivi a vedere l'albero di cui stiamo parlando e la stessa cosa succede con i libri di Enrico che proprio ci accompagnano in questo mondo dell'alta montagna perché appunto lui nasce come alpinista, noi siamo più o meno coetanei, trucca e branca, fine anni 50 diciamo e cittadini tutte e due, noi la montagna l'abbiamo vista da in fondo, non so, in fondo ai grandi corsi di Torino nelle giornate terze, no? Si vedono le montagne e quindi c'è questo legame, questo amore-odio, questa vicinanza voglia di arrivare vicinanza e distanza nello stesso tempo. Ecco quando eravamo ragazzotti noi andare in montagna era una pratica abbastanza molto più diffusa di adesso anche perché forse costava meno, vivevamo con meno, non ho idea. Allora come Enrico se non ti spiace io comincerei questa breve conversazione che vorrei che non durasse troppo questa mia peronazione soprattutto perché voi sicuramente avete delle cose da chiedere agli autori però vorrei cominciare appunto con con Tiziano. No, vorrei cominciare con Tiziano, scusate, scusate, ve l'ho detto non sono proprio smagliante. Allora Tiziano Fratus l'ho conosciuto attraverso la tv e adesso faccio un piccolo spot per una trasmissione che non c'è più quindi non vale. Quando lavoravo ad Ambiente Italia che era un settimanale che si faceva a Torino e che riguardava però soprattutto i guai e le bellezze dell'Italia avevo un chiodo fisso che era quello di vedere delle facce diverse da quelle che si vedevano in tutta la televisione per cui non vi devo spiegare niente. C'è questo automatismo, l'esperto di è sempre Tizio, il geologo è sempre con tutto il rispetto Tozzi e l'idrologo è sempre Caio, insomma. Allora a un certo punto un giorno ascoltavo Radio 3, Fahrenheit e sento una voce che dice delle cose molto interessanti sugli alberi e di lì ho invitato Tiziano in trasmissione e di lì è venuta fuori un'amicizia, una frequentazione che poi vedi qualcosa è servito perché adesso vedi che dopo questi rodaggi fatti Ambiente Italia sei approdato a Gheo e il Gheo che gli dedica appunto settimanalmente una rubrica su un grande albero. Intanto io vorrei capire una cosa, i grandi alberi, cioè c'è chi li chiama i patriarchi, chi li chiama alberi significativi, alberi monumentali, alberi notevoli, antichi, ma sono tanti modi per devenire la stessa cosa oppure no? Allora, buonasera a tutti e a tutte. Io ringrazio Ediciclo per aver organizzato questo piccolo incontro e ovviamente ringrazio il Circolo dei Lettori per aver accolto l'idea e Claudia perché si è preparata, avete visto, c'è una divina commedia di commenti e di cose da leggere che sicuramente non riuscirà a leggere tutte, ma insomma si è impegnata molto e questo secondo me è già un fatto assolutamente glamoroso. E ovviamente sono contento di essere qui con Enrico, ci conosciamo da qualche anno anche se, come è stato anche in parte già detto da Claudia, noi in realtà frequentiamo, tendiamo come dire, a visitare e a ritornare in luoghi che sono adiacenti ma non sono sempre gli stessi, nel senso che io preferisco arrivare fino a 2000 metri, anche per la mia mole che appunto è quella che assomiglia più a quella all'orso che non allo stambecco, diciamo, e quindi mi piace andare nei boschi, ci vado quasi tutti i giorni e per vedere alberi, per studiarli, insomma, e anche per meditare che è l'altra parte crescente e sempre importante della mia piccola vita. Mentre invece Enrico, che sicuramente ama anche i boschi e tutto quello che riguarda al di sotto dei 2000 metri, è un uomo invece proiettato o è stato proiettato soprattutto nella parte superiore ai 2000 metri, quindi la roccia, la scalata, tutto quello che è anche la storia della montagna, degli scalatori, ha scritto tanti libri molto belli su questo e negli ultimi anni, non so se anche prima, non ho idea, si è appunto cimentato con, direi, grande successo con i romanzi che adesso sta scrivendo. Quindi abbiamo, come dire, tanti fili in comune, ma anche proprio nella nostra vita abbiamo frequentato montagne in aspetti e ambienti diversi, il mio è più legato ai torrenti, ai ruscelli, agli alberi, il bosco, la sua, la selva, diciamo così, la sua invece è più la roccia, la scalata, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda gli alberi monumentali, sì, quello che chiedevi tu. C'è chi li chiama i patriari. Sì, sì, sono tutte parole che vanno a indicare l'esistenza di alberi praticamente. Sì, questi sono tutti alberi che ho fotografato in varie parti d'Italia, non mi ricordo se ci sono anche foto di altri paesi, e sono alberi secolari, alberi millenari, che alcuni di questi sono millenari, alcuni sono considerati millenari, e altri sono veramente millenari. E sono alberi che si dicono monumentali, si dicono eccezionali, si dicono patriarchi, insomma, c'è tutta una scansione di terminologie che si usano per poter definire questi grandi alberi. Il termine tecnico è, e resta, albero monumentale, perché in Italia si è usato questa formula, io li chiamo anche in altri modi, ma l'immaginazione per fortuna ci consente di fare tante e tante invenzioni, per cui, per esempio, quando incontro un grande castagno, un castagno che può avere 3-400 anni, come ce ne abbiamo anche in Piemonte, tendenzialmente io li chiamo castanodonti. Ho fatto anche tutto un vocabolario per uomini e radice, uomini e donne radice, nel quale ogni tanto aggiungo un vocabolario con cui descrivo queste piccole epifanie di viaggio all'interno del mondo del bosco. O delle foreste, laddove in Italia in realtà è difficile parlare di foreste, si fa più per generosità forse che per reali dimensioni delle stesse, però comunque questo è quello che noi abbiamo oggi in Italia. Ecco, c'è tutto un immaginario costruito intorno all'uomo radix, l'uomo radice, la donna radice, il bambino radice. Ecco, è qualcosa che tu continui a sentire, qualcosa che è profondamente appartenente, visto che a questo si aggiunge anche la tua pratica costante della meditazione. Ecco, chi è, se vogliamo sentirla ancora dalla viva voce dell'autore, la definizione di questo, di queste... Uomo radice. Uomo radice. Uomo per dire essere umano, naturalmente. Sì, è una storia lunga, comunque adesso la farò molto succinta, perché ci sarebbe tutto un capitolone da spiegare. Comunque sta di fatto che mentre ero in California, a un certo punto incontro degli alberi millenari, che erano le sequoie, e nasce una poesia. Io ho scritto e scrivo ancora molte poesie, anche se poi li chiamo Boschi Mignati, sono poesie disegnate, quindi a forma di foglia, di seme o di albero. E queste poesie sono state appunto tradotte in varie lingue. E quando ero lì in California, a un certo punto incontro queste sequoie, scrivo una poesia e diventa la definizione un po' dell'uomo radice, avendo io questo cognome Fratus, che ha una chiara sonorità, scendenza latina. Ogni tanto uso anche il latino nei titoli delle poesie, cosa che ovviamente abbatte tutte le possibilità di lettura da parte dei lettori, perché già sono frotte, come si vede anche stasera, ma fondamentalmente... Però infatti, tendenzialmente il latino non aiuta in questa cosa, a meno che uno non incontri qualcuno di veramente appassionato col latino. E questo homo radix, in sostanza, è una persona che attraversa il paesaggio e cerca di creare delle connessioni con gli elementi naturali. E fin qui è una definizione, come ce ne sono migliaia, dall'ecosofo, ci sarebbe tutta una scansione di parole che parlano di questo rapporto fra uomo e natura, fra uomo e paesaggio, fra uomo e il tempo che passa attraverso le esperienze che si fanno, che si conciliano. E anche Enrico sono sicuro che ha le sue definizioni per esprimere questo tipo di sentimento. E sicuramente ognuno di voi ce l'ha, insomma, magari sono parole ordinarie, magari invece c'è il suo vocabolario che nel tempo va a imbastire. Comunque questo uomo radice a un certo punto si è mosso e ha cominciato a sentire soprattutto questa radice comune, universale, che unisce con tutte le altre forme di esistenza. Approfondendo il buddismo, in realtà tutto questo è antico, nel senso che nel buddismo, voglio dire, almeno 2500 anni di storia si basano proprio su questo assunto, sul fatto che l'uomo e tutte le altre forme di esistenza sono parte dello stesso disegno, fanno parte della stessa realtà, non sono scisse, non sono, come abbiamo imparato a scuola, a distinguere fra l'uomo e tutto il resto, no? Sapete il disegno che in questi anni si fa molto girare, anche sui social, dove c'è l'io, che è l'uomo al centro di un cerchio con tutte le altre specie attorno e invece la visione dell'uomo che è una parte di tutti gli altri, di tutta la creazione, quindi anche l'uomo fa parte di questo cerchio, di questo bosco. Sì, speravamo che con l'evoluzionismo fosse passato, ma evidentemente no. Ma questo io penso che dipende dal fatto che noi comunque mettiamo noi al primo posto, non c'è niente da fare. E poi siamo una forza della natura distruttiva, come? Siamo una forza della natura, c'è la distruzione, ma c'è anche la creazione, l'uomo è anche capace di fare delle cose molto belle, quindi voglio dire, vabbè, saremmo un discorso lungo adesso, non è il caso di iniziarlo. Comunque sta l'ifatto che questo uomo dice che può essere benissimo chiunque di voi, è una persona che attraversando il paesaggio sente dei legami emotivi, naturali, culturali, con tutto ciò che è la cosiddetta natura. Poi qui si potrebbe fare la domanda che cos'è la natura, la risposta un'altra volta, perché ci vorrebbero quelle 5-6 ore per spiegare che cos'è la natura. Io vorrei parlare con Ingrico adesso e per tornare poi a Tiziano. Allora, Ingrico, si è detto appunto che tu nasci come alpinista, cittadino e alpinista, e poi hai continuato la tua lunga carriera di giornalista storico della montagna, direttore di riviste molto importanti per noi che andavamo in montagna e volevamo capire cosa succedeva in giro per il mondo, come cambiavano anche le tecniche e le filosofie della montagna. E poi il Piemonte ha dato anche vita e spazio a grandi personaggi, non so, da Giampiero Motti a Bonelli e per quanto riguarda la speleologia a gente come Giovanni Badino, il primo che mi viene in mente, una persona a cui io sono stata molto affezionata. Ecco, ed è anche fondatore di un progetto importante che si chiama Dislivelli, che ha un bel vantaggio in quest'epoca in cui tutto ha un prezzo, che è un progetto online che produce una rivista bimestrale dove scrivono tanti bei nomi che si occupano della montagna dal punto di vista fisico, culturale, politico. Vi consiglio di dare un'occhiata. a Dislivelli, è anche facile da ricordare. Ecco, in quell'epoca, allora, noi siamo così vecchi, dico noi, appunto, da avere vissuto sulla nostra pelle, proprio con i nostri occhi, avere constatato che cosa significa il cambiamento climatico. Cioè, questo, secondo me, per uno storico della montagna un giornalista, il direttore di svariate testate, non può che essere un tema fondamentale, che poi rientra anche nei tuoi romanzi, ma ne parleremo dopo. Chi ama la montagna non può ignorare che le Alpi sono, come si dice, un hotspot del cambiamento climatico, mentre si va discutendo se si può aumentare di un grado e mezzo o di due rispetto al grado zero prima dell'industrializzazione, qui due gradi in più ci sono già. Questo è quanto, proprio perché questo implica tutta una serie di problemi dal punto di vista geologico, della sicurezza, non so, si scioglie il permafrost, eccetera. Ecco, quanta parte di questo, come si può rendere tutto ciò in modo che non sia appunto apocalittico, ma che consenta insomma una reazione, una convivenza, una resilienza con questa situazione? E infondendo un po' di speranza chi ci vuole andare in montagna. Tu ci hai messo dieci minuti a fare la domanda, figurati... Ecco, poi si o no? Deve essere complicato. Cioè sostanzialmente uno che fa il giornalista, riassumo, uno che come te si è cimentato nella storia... No, ma ho capito benissimo, quello che vuoi sapere, perché non è facile rispondere. Eh, lo so, cioè come ti poni, cosa pensi, che consigli dai a uno che si avvicina adesso alla montagna? Anche che cosa legge, per esempio. Ma dunque, la montagna ha un mucchio di sollecitazioni, di fascini vari, appunto si può arrivarci da mille strade diverse, lo dimostriamo noi due stasera, che sicuramente arriviamo da strade diverse, poi alla fine però ci incantiamo magari tutti e due davanti a un certo spettacolo. Quindi non ci sono ricette. Io credo che in questo senso la libertà sia ancora l'unica ricetta, purché chiaramente sia una libertà consapevole, perché comunque ci si muove in un ambiente fragile, ecco, questo penso di poterlo dire. E in questa fragilità rientra il cambiamento climatico, nel senso che la montagna cos'ha di particolare? Che probabilmente ci butta addosso ai cambiamenti prima della pianura. Quindi il ghiacciaio che scioglie, la frana che viene giù, l'alluviona che poi si ripercuote sulla pianura, nascono in montagna. E quindi se noi fossimo un po' lungimiranti, probabilmente guardando quello che succede su, arriveremo ad anticipare anche, diciamo, il cambiamento che poi ci sarà a livello più ampio e più di pianura. Questo, non detto che sia un vantaggio per la scienza, potrebbe esserlo però per noi frequentatori, perché oltre a darci tante soddisfazioni, tanta bellezza, la montagna ci dà anche modo di riflettere, in modo forse anche un po' più drammatico in questo momento, su quello che ci sta succedendo, sulla rapidità con cui sta succedendo, perché io dico sempre, è ovvio che queste cose sono sempre successe. Primo, secondo, la montagna se ne frega altamente, la montagna sta benissimo anche senza gli acciai, sta benissimo con le frane, gli alberi nascono, muoiono, così come tutti gli altri esseri viventi. Siamo noi che non stiamo tanto bene, perché da un punto di vista estetico vediamo un paesaggio, appunto come dici tu, in una generazione soltanto, perché per vecchi che siamo, comunque è successo tutto in poche decine di anni, quindi con una riabilità abbastanza sconvolgente. Ebbene, questo è un problema, può essere un problema anche proprio di riferimenti culturali, di riferimenti anche paesaggistici, perché basta guardare le immagini che scattavamo quando eravamo ragazzi e confrontarle con quelle di adesso e vediamo già visibilmente il cambiamento. Ma non ci va lo specialista, basta un colpo d'occhio. Ma anche per la guida, suppongo. E poi ci sono delle conseguenze di tipo tecnico, soprattutto dove appunto interviene il permafrost, cioè dove il terreno in qualche misura rimane solidificato da questo strato di terreno ghiacciato che c'è sotto una certa, sotto la superficie, a una certa profondità e con le grandi alte temperature, mi ricordo per esempio il 2003 che è stata l'estate ancora oggi record, per fortuna non l'abbiamo ancora eguagliata, ma però abbiamo battuto tutti i record a livello di periodo. Ebbene, insomma, succede che per esempio il Cervino che è tenuto insieme, come tutte le montagne, da questo bostic fatto di ghiaccio che tiene le rocce insieme, ma anche le montagne che ci sembrano, come dire, intoccabili, come il granito del Monte Bianco, pure quello viene giù. Perché quando il permafrost, che è un collante, viene a mancare, cioè viene a fondere, crollano pareti intere, crollano lastre immense, non è che crolla la roccia, crolla proprio un pezzo della montagna. E quindi questa è un'ulteriore rappresentazione, non tanto di quello che succede oggi non è mai capitato, perché non è vero, è sempre capitato, ma di quello che oggi capita con rapidità e frequenza inusuali. Non so se ci sia da essere contenti o da essere lieti che la parete OV del Drue, che è proprio il monolite per eccellenza sul versante, diciamo, OV del Monte Bianco, sia caduta, sia caduta da tre volte in questi ultimi vent'anni, no? Non penso che sia una cosa da poco, perché il Drue evidentemente è un risultato di una frana. Lo vede chiunque da Chamonix, vedi questa montagna, questa parete, dici, concava, con delle grandi colate bianche, dici, per forza lì, una volta c'era qualcos'altro che poi è franato. Però il fatto che questa cosa si succeda con questa rapidità oppure la frana più spaventosa è stata quella che è avvenuta sul Cengalo quattro anni fa, mi pare. Cioè il Cengalo è una parete, una montagna di 3.300 metri nelle Alpi centrali, ma non è caduta una montagna o un pezzo di montagna, è caduta talmente tanta montagna che ha ucciso persone su tutto il cammino, escursionisti, ed ha pure colpito la valle che c'è in fondo, cioè la valle Bondasca, che è esattamente 2.500 metri più in basso. Quindi capite che questi fenomeni, sicuramente non nuovi, però ci dovrebbero far pensare che, insomma, veramente il calore sta creando qualcosa. Il secondo elemento, evidentemente, sono i ghiacciai che fondono e quindi li vediamo fondere sotto gli occhi. Allora, tutto questo, io non so cosa comporti all'escursionista. L'alpinista comporta il fatto che deve evitare certi itinerari, altrimenti lui rischia, perché ci sono posti dove non bisogna assolutamente più andare, perché non si può più andare. Perché poi il ghiaccio, quando se ne va, lascia un terreno estremamente insicuro, lascia una sorta di terra di nessuno, perché non è ancora rinverdito, non è ancora... quegli alberi lì non ci arriveranno mai, ma ci arriveranno anche loro, magari prima o poi, ma comunque prima arrivano gli alberi pionieri, piante pioniere, arrivano gli ontani, questi alberi che... questi arbusti, più che altro, che però di fatto cominciano a rielaborare un paesaggio. Ma prima che succeda quello passano degli anni lunghi e in quel tempo è meglio proprio non metterci piede in quei posti. passano molti più decenni di quelli che sono passati dagli anni Ottanta quando uscivi e arrivavi a Curmajor, alla seggiovia più alta e vedevi questa schiera meravigliosa di montagne bianche, parlo di Cervinia, scusate, arrivavi, uscivi e vedevi questa chiostra di denti bianchissimi. Io ci sono tornata dopo 15 anni ed erano tutte nere quelle montagne e la stagione era stessa. Ho avuto un senso di privazione di qualcosa, così, proprio... Ormai ci siamo ormai costruiti un immaginario che è fatto in un certo modo. Probabilmente in altri periodi storici non era così. Il diacciaio della Mege adesso è una distesa di sassi e mi ricordo distintamente che sempre nell'anno che fu, il secolo scorso così sicuro scivolavo le giadra giù per questo pendio e c'era qualche sasso quello, ma non era una pietraia come adesso. Ma non voglio parlare solo di cose tristi, vorrei anzi parlare, citare questo libro molto carino di Enrico Camanni che si chiama L'incanto del rifugio piccolo elogio della notte in montagna, scritto nel 2015 però non rinuncio a dare una mia versione del rifugio. Io del rifugio, appunto, visto che andavo sempre con persone un po' più grandi di me, sicuramente più esperte, ho ricordi belli ma anche terribili, un freddo cane perché poi i sacchiapelli erano quelli russamenti terrificanti che non sapevi, cioè che in realtà non si dormiva mai nei rifugi, non so, questa è la mia esperienza, però anche un profondo senso di comunità, di appartenere a un gruppo di, non so, di eletti, di matti, di persone strane che avevano un amore comune. Ecco, a che punto del tuo lavoro e della tua vita eri quando hai scritto questo libro L'incanto del rifugio? È stato andato esattamente così che ho scritto delle cose sui rifugi, non so più nemmeno dove però sono venute fuori su internet in qualche modo e è stato l'editore che mi ha detto guarda abbiamo sta collana che secondo noi si presterebbe per una riflessione sul rifugio. Io non avevo neanche ben capito cosa voleva però poi guardandomi la collana ho subito capito questa cosa è una collana che è nata in Francia adesso facciamo noi un po' lo spot per Edicico perché non ci sono loro se lo merita loro hanno come dire acquisito i diritti di alcuni libri che erano già usciti in Francia che avevano esattamente questa grafica e questo formato che è una grafica bella ed è un formato geniale appunto perché si può mettere in tasca e portare in giro in viaggio e non è la non so come si chiama piccola filosofia di viaggio è qualcosa così piccola filosofia di viaggio allora io trovo che i libri di viaggio 90% sono noiosissimi perché è come quando ci fanno le diapositive quando sono tornati dal viaggio che è una delle esperienze più soporifere che si possono perché interessano soltanto quelli che erano lì ma è evidente tu che poveretto non hai partecipato ti devi sorbire l'Arizona o che ne so il Nepal magari sei volte con sei interpretazioni diverse perché quelli sono stati là ma chi se ne frega cioè è un'esperienza loro ben diverso invece è lo spirito di questa collana che è come dire il viaggio del pensiero il viaggio nel pensiero e nei luoghi cioè i luoghi vengono letti vengono interpretati vengono raccontati in modo leggero e non c'è niente di saggistico non c'è una nota non c'è nulla di pesante però insomma sono delle interpretazioni dei luoghi secondo me ed è proprio lo spirito della collana e questo mi pare è riuscito infatti la collana è andata molto bene e allora quando mi ha chiesto di parlare dei rifugi appunto ho fatto un piccolo viaggio che non è il viaggio da qui a lì ma è un viaggio attraverso la mia esperienza attraverso la storia che emozioni che pensieri che suggestioni e anche che russate ci hanno regalato nel tempo i rifugi dopodiché io stesso mi sono un po' stupito perché alla fine mi veniva proprio spontaneo il fatto che effettivamente sostenere e questo mi sono ancora convinto che nonostante tutti gli aspetti dimenticabili della notte in rifugio che tu hai citato ma che ce ne sono tanti altri perché a volte c'è quello che quelli che partono alle tre e tu vorresti dormire ancora oppure viceversa tu che devi partire alle tre gli altri che fanno casino fino a mezzanotte non ti lasciano prendere sonno quindi non è vero che la notte in rifugio nei grandi rifugi soprattutto sia un idillio ma in certe condizioni quindi rifugi più piccoli gruppi più affiatati e magari essere addirittura solo in due per potersi godere in un piccolo bivacco la bellezza della natura ecco io credo che la notte in montagna sia la magia assoluta cioè se uno non prova alla notte poi ci dirà lui se questo vale anche per il bosco secondo me non ha preso non ha capito o non ha vissuto l'esperienza più profonda che può offrirci la montagna probabilmente questo vale anche per il mare aperto io non ho mai vissuto una notte in mare aperto su una barchetta e probabilmente quella è l'esperienza più profonda però in montagna indubbiamente trovarsi come descrivo nel primo pezzo del libro in una semibotte come c'erano una volta ma ci sono ancora perché sono libere ci si può andare quella roba lì che sono proprio delle semibotti dove tu ti metti dentro e stai lì quasi immobile perché tanto non c'è spazio per muoversi però mentre sei immobile e mentre cerchi di dormire cominci a sentire i rumori del vento i rumori degli animali i rumori del temporale se arriva oppure i rumori semplicemente della montagna che respira perché non sta mai ferma la montagna ed è proprio lì che te ne rendi conto perché di giorno invece nel casino dei un rifugio grande oppure nella concentrazione di uno scalato o anche solo nel così nel semplice camminare non si colgono queste cose sembra che la montagna non respiri invece la montagna vive e respira continuamente e nella notte questo diventa viene amplificato e quindi io ho cominciato con un'esperienza raccontando un'esperienza da ragazzo e mi ricordo che queste sono esperienze iniziatiche quelle che ti fanno perché lì veramente tu dici ah io sono stato in montagna che non è andare con i genitori o con gli amici a fare una polenta è una cosa molto più profonda io credo che queste parole risuonino assolutamente in Tiziano Fratus che invece il libro suo che presentiamo questa sera è Il sussurro degli alberi il piccolo miracolario per uomini radici è un libro che come quello di Enrico ha avuto ben tre edizioni è del 2013 e prima di Stato nel 16 secondo nel 18 quindi credo che sia un successo che un piccolo libro che tratta di un argomento se vuoi di settore che piccoli libri come questi abbiano un seguito e suscitino un interesse di questo genere ma io direi che adesso è normale diciamo te lo aspetti e il mercato è anche ricco di tanti testi di tanti case editrici che operano in questa direzione il merito se così possiamo dire uno dei meriti della collana è stata quella sì diciamo di non di fare di apripista perché non è così però diciamo di mettersi all'inizio della compagnia se possiamo dire ecco perché in realtà di libri che parlano di natura da un punto di vista del viaggiatore della riflessione della contemplazione ne sono stati scritti tantissimi voglio dire abbiamo una lunghissima storia che quanto meno quanto meno per non andare troppo lontano parte almeno in Nord America se pensiamo a quel mondo lì siamo a metà dell'Ottocento voglio dire i primi autori che in qualche maniera hanno messo nero su bianco delle sensazioni un approccio alla natura che fosse che è parente madre non so come dire del nostro anche approccio contemporaneo di questi giorni quindi in realtà se noi andiamo a vedere quali sono le radici di tutta questa sensibilità che ognuno di noi allena con le esperienze e questo è importante ovviamente ci sono tantissime radici lunghe che fluttuano nelle tradizioni anche di altri paesi e non dimentichiamo che l'Italia comunque è un paese che ha sempre creduto in queste cose anche soltanto la storia religiosa del nostro paese lo dimostra ampiamente ma adesso non toccherò questo argomento perché sarebbe anche lì un paginone lunghissimo e ricco però per esempio per quanto riguarda l'editoria delle esperienze che anticipano questa collana e tutte le collane che ne sono seguiti da dopo perché oramai tutti gli editori pubblicano libri con questo taglio domani sera avrete qui ospite un altro autore che ha questo taglio anche lui no? Pasquale ma ne potremmo citare veramente tantissimi di tante case editrici noi stessi voglio dire siamo colleghi anche di altri nei cataloghi di altre case editrici per esempio di La Terza dove abbiamo pubblicato entrambi più di un libro e di altre ancora Mondadori eccetera però voglio dire questa questa collana come altre collane scritte per esempio già dagli anni 70 in poi hanno aperto una visione particolare un rapporto anche con quella che noi chiamiamo la natura che può essere l'animale può essere il viaggio può essere l'acqua può essere la pianta il fiore il giardino si tratta di sottolineare di mettere a portata di mano del lettore un'esperienza concreta che nello stesso tempo è un'esperienza condivisa da altri è questo che io trovo questa è l'analogia che trovo in qualche modo dei vostri sì penso che sia così ma ripeto riguarda anche molti altri autori di questa stessa collana ecco e ci sono appunto altre esperienze che assumiamo in mente una collana importante che forse ricorderete quella fondata da Ippolito Pizzetti negli anni 70 per Rizzoli l'ornitorinco che aveva anche questo nome questo logheno fantastico quelli erano libri dedicati alle piante e ai giardini soprattutto che negli anni 70 hanno aperto una visione un approccio che non era soltanto il giardiniere che cura c'era anche quello ma c'erano anche altre cose Ippolito Pizzetti oltremodo è stato un grande naturalista oltre che un giornalista un formatore anche di tante nuove non esisteva ancora la versione architettura del paesaggio diciamo mai nata da lì a poco lui forse non avrebbe amato questo modo di chiamare coloro che si occupano di paesaggio attraverso l'architettura e il disegno di giardini comunque quella era una sensibilità molto spiccata infatti lui faceva leggere Tolstoi invece di leggere un testo tecnico dicete venite a parlarvi di giardini dopo che avete letto Tolstoi Karamazov e tante altre meraviglie della letteratura russa per dire la sensibilità particolare che aveva Pizzetti insomma ma questo è l'approccio che abbiamo anche noi anche noi leggiamo i nostri Karamazov che magari non è proprio Tolstoi sono altri autori magari o nordamericani oppure sono più autori che hanno scritto di montagna ad esempio ma non per per legare come dire in un settore semplicemente perché esplorare maggiormente le varie vie della letteratura e questi sono i risultati insomma questa piccola collana che comunque continua adesso è arrivata stanno arrivando al cinquantesimo numero di questa collana quindi sono cinquanta divise diverse piccole filosofie di viaggio che nell'arco di dieci anni sono state pubblicate e molte di queste dimostra che c'è sensibilità che noi ci divertiamo a scriverle e dall'altra parte il lettore gradisce spero e le compro allora io ti dirò ancora perché però ti ho detto un'altra cosa che allora sono piccoli libri molto molto densi molto colti che ti aprono delle porte che ti fanno venire delle curiosità ma un'altra delle attività che iniziano svolge è quello di accompagnare dei gruppi e di fare delle come le chiamiamo dendropasseggiate ho formule peggiori di questa comunque spesso lo faccio anzi più che presentazioni negli ultimi anni non è che sono guide io non ho niente contro la parola guida so che c'è una certa oggi nemicizia nei confronti di questa parola invece secondo me è anche una bellissima parola però diciamo che non è che sono guide sono esperienze e adesso quest'ultimo anno io ho fatto una serie di esperienze che sono eredità di quelle fatte prima e l'ho intitolato il tessitore di foreste e quindi noi andiamo nei giardini pubblici negli orti botanici nelle riserve naturali di montagna di appennino o di pianura quella che capita e facciamo tre, quattro, cinque ore quello che è un po' come stasera fino a mezzanotte voi siete qui non potete più uscire e ovviamente faremo questa per esempio una meditazione quindi a un certo punto nel bosco c'è la meditazione semplice non è che è confessionale io sono buddista ma questo non vuol dire che la gente deve seguire il mio modo di affrontare questo tipo di esperienza poi ci sono le letture letture di classici di vario tipo dal nord americano all'italiana alla francese piuttosto che abbiamo molto gli eremiti cinesi di mille anni fa o i maestri zen e quindi spesso li cito e poi ci sono diversi moduli ci può essere appunto la camminata c'è questo tiglio spieghi la storia del tiglio questo abete voi in queste foto che vedete avete visto anche degli alberi di montagna ci sono alcuni degli alberi millenari d'Italia fra cui per esempio si è visto un bellissimo questi qua sono tutti olivi questi di adesso questa siamo a fare la Toscana l'Umbria e il Lazio però si sono visti ad esempio un paio di larici c'è un famoso larice in Val Malenco sopra Sondrio che oggi che è stato studiato in questi ultimi anni e questo albero che cresce sopra l'Alpe Ventina tu la conoscerai molto bene a chiesa in Val Malenco sopra proprio e lì c'è questo sentiero che adesso è stato disegnato e porta a questo a 2000 metri a questo larice millenario è stato studiato scientificamente quell'albero lì ha iniziato a vivere nell'anno 1600 quindi adesso ha ufficialmente 1015 anni tu vai a vedere questo bellissimo larice ma in realtà vedi un albero abbastanza piccolo perché sta su a 2000 metri quindi non ha avuto modo di diventare è rimasto lì si è adattato sempre perché la vita a quelle altitudini per gli alberi era soprattutto grande adattamento il clima che sta cambiando modificherà anche questo e quindi quell'albero lì per esempio è un'esperienza di per sé cioè puoi andare a meditarlo lì sotto puoi andare a ammirarlo puoi andare a fare una disquisizione puoi fare tante cose in compagnia di questi meravigliosi alberi e queste esperienze appunto li faccio e io mi diverto di più tra l'altro che fare la presentazione come stasera che per carità le facciamo e fanno parte del nostro piccolo kit diciamo dell'autore dello scrittore se questo è un termine che amiamo usare però poi ognuno di noi sicuramente ha qualcosa che ama particolarmente in qualche modo e allora io fra le tante esperienze che mi piace fare quella mi sembra anche quella più vicina al mio spirito insomma ecco tutto lì ecco io vorrei invece vorrei tornare a Enrico parlando della sua dimensione di romanziere perché Enrico Camanni non solo fa tutte le cose che abbiamo raccontato partendo da un alpinista dall'alpinismo praticato importante fino alla storia dell'alpinismo alle questioni intorno alla montagna ecco come è nato un personaggio come Nanni Settembrini che è un personaggio che vive in Valle d'Aosta ed è un torinese che ogni tanto torna dalla mamma che gli fa del cibo meravigliosa torna dalla mamma del sud che poi gli riempie il frigorifero per qualche giorno pare di capire anche la pancia anche la pancia si lo lascia anche sempre un po' in difficoltà quando deve quando poi deve accompagnare appunto la gita perché è una guida Nanni Settembrini tu hai fatto la guida certo no no la guida non è uno scherzo bisogna fare gli esami i complessi no io ho fatto l'istruttore hai fatto l'istruttore finché mi sono stufato ma io credo che non so Tiziano dopo ce lo dici per molti che fanno questo mestiere cioè che lavorano con la penna adesso più la penna non c'è più tanto c'è la tastiera c'è come come dire da grande mi piacerebbe scrivere un romanzo no perché il vero mestiere vuol dire fare giornalista quello è un mestiere secondo me che vuol dire sbattersi vuol dire come tu ben sai anche a volte dedicarsi dedicarsi a cose che proprio non ti entusiasmano o nel momento in cui faresti volentieri tutt'altro che però è quello che ti forma è quello che ti dà un lavoro e però non so tu non so lui ma io come tanti altri credo si dice ma poi quando ho un po' più di tempo provo a scrivere un romanzo che però è tutta un'altra roba nel senso che io infatti ci ho provato verso i 25 30 anni e mi sono accorto che non ero assolutamente in grado perché quando tu ti metti dalla parte della fiction cioè ti devi inventare la storia ti devi inventare i personaggi ti devi inventare tutto ti accorgi che il tuo mestiere non serve a niente cioè è proprio un'altra cosa perché poi alla fine adesso che un po' l'ho praticato quello che conta di più non è tanto saper scrivere perché quello più o meno siamo capaci tutti e avere una sceneggiatura in testa cioè è quello il problema perché se non c'è la sceneggiatura non viene fuori il romanzo comunque insomma per farvela breve io ci ho messo una vita fino a 40 anni non ero capace non ci riuscivo anche i racconti che scrivevo non mi piacevano e infatti raramente li pubblicavo però poi a un certo punto si vede che è scattato qualcosa semplicemente ho avuto più tempo per dedicarmici e ho scritto un romanzo che si intitolava La notte del cervino che era addirittura il protagonista era una donna quindi addirittura ho fatto anche un salto di genere sì dopodichè però siccome la mia passione sono i thriller i gialli mi sono chiesto se si potesse nel campo della montagna perché bene o male io viaggio sempre tra le cose che conosco quindi le Alpi Torino ovviamente nell'ultimo ci ho messo anche la Liguria se ci poteva stare è un thriller appunto o se era forzato perché quelle esperienze tipo Clint Eastwood assassino su Liger che io vedo perché non sarei un ipocrita vedo e mi diverto pure però trovo che sia il poliziesco portato in montagna e quello non mi interessava e allora insomma per farla breve ho inventato un personaggio che si chiama Nandi Settembrini torinese che fa la guida il soccorritore sul Monte Bianco che in quanto soccorritore ha a che fare con ecco il vero thriller secondo me sono i casi di scomparsa cioè quando li chiamano possono se va bene portare a casa il ferito o semplicemente quello che si ha perso per strada se va male portano a casa un cadavere e se va non si sa come portano a casa nessuno perché capita spesso purtroppo che in montagna delle persone si perdono e che non siano facilmente ritrovabili o perché sono finiti in un crepaccio o perché non hanno detto dove andavano per varie ragioni e siccome il tempo della ricerca è breve perché non posso mettermi lì tranquillo dicendo il prossimo mese mi ci dedico perché tanto quello non lo trovi più e allora qui nasce il genere non so chiamiamolo giallo Mondadori mi ha messo nei gialli ma giallo sì però mi hanno già criticato tutti perché hanno detto ma non è un giallo perché non ci sono le sparatorie perché poi uno ha la sua idea di giallo soprattutto gli italiani perché se in Francia dici John ti dico ma sei scemo perché non esiste il termine deriva poi dai gialli Mondadori quindi esatto comunque insomma chiamiamolo misteri ecco il misteri nasce dal fatto che qualcuno non è ritornato e allora Settembrini si improvvisa l'investigatore perché un testore non si arrende vuol capire che cosa è successo quindi sostanzialmente sono delle storie di oggi perché si svolgono oggi di uomini e donne come noi che vivono delle esperienze un po' intense ecco diciamo e che tra l'altro partecipano non voglio spoilerare che brutta parola cioè non voglio fare delle rivelazioni però a un certo punto in uno dei due romanzi si parla anche del requiem per un ghiacciaio che è stato però commisto a un evento dell'anno successivo al ghiacciaio della Meige che è stato una cerimonia con musicisti televisioni è stato veramente un ambaradam pazzesco a 2400 metri e lì ricordo te Grico che ci hai veramente descritto questo luogo com'era questo luogo come te lo ricordavi per me è stato un momento di grande proprio che sai che ci sono dei momenti che c'è un prima e un dopo e proprio mi sono resa conto che io pur non avendolo mai visto quel posto dove c'era il ghiacciaio c'è un lago dove c'era il ghiacciaio era arretrato di 500 metri forse di più eravamo al ghiacciaio dell'Is sul Monte Rosa esatto alle sorgenti dell'Is su un posto tra l'altro neanche da dire battuto da orde di turisti perché lì non ci sono strade quindi o ci vai a piedi o ci vai a piedi ecco il ghiacciaio mi ha aiutato a scrivere quest'ultimo episodio perché lui di per sé è un misteri nel senso che ingoia oggetti e persone e ogni tanto restituisce qualcosa bene o male restituisce perché gli ghiacciaio possono anche metterci 70 anni ma alla fine quella roba che hanno ingoiato viene fuori e purtroppo vengono fuori ultimamente anche con una certa frequenza anche dei corpi soprattutto per esempio dove si è combattuta la grande guerra sul fronte dolomitico orte ceredale dolomiti perché marmolada perché lì purtroppo immaginate quanti corpi sono stati sono spariti cento anni fa e vengono restituiti oggi insieme a pezzi di fisarmonica lettere d'amore cioè pezzi di storia di guerra ma una guerra privata insomma e lo stesso capita con meno frequenza perché ci sono meno cadaveri ma per esempio sul Monte Bianco o sul Monte Rosa che comunque nel tempo hanno ingoiato degli alpinisti e li restituiscono purtroppo non escono interi non è come nel film di Zinema anche chi l'ha visto questa bellissima 5 giorni un'estate leggenda dell'engadina di questi di questi ragazzi ventenni che dovevano sposarsi e il giorno prima del matrimonio lui va a caccia attraverso un ghiacciaio e cadi in un crepaccio c'è questa scena meravigliosa Zinema il grande regista di Mezzogiorno di Fuoco che era un austriaco quindi è ritornato da vecchio a girare nei suoi monti e la scena sostanzialmente è un giovane un corpo perfettamente intatto che esce dal ghiaccio un corpo preservato giovane e questa donna invece è ultraottantenne curva che va a salutare il suo fidanzato con cui non ha poi mai avuto una vita insomma ecco questa è la leggenda di solito non esce il corpo però escono dei pezzi di questa persona o anche degli oggetti che come dire in questo caso a Settembrini in altri casi ad altri sono come delle consegne di memoria come dire trovami dammi un nome dammi un nome riportami a qualcuno che mi voglia bene che mi aspetti ancora ecco e questo è quello che mi ha permesso di inscenare e quindi alla fine c'è Requiem perché effettivamente e ti piace ti trovi io Requiem no no ti trovi in questa dimensione di tra la fiction e la cronica adesso mi trovo ci ho messo un po' di tempo volevo chiedere ancora una cosa a Tiziano e poi mi raccomando se qualcuno di voi prima ho chiesto a ciascuno di fare una domanda all'altro e poi se qualcuno di voi ha delle domande da fare a Tiziano Fratus Enrico Camanni saranno le benvenute no io volevo parlare invece con Tiziano di un libro che quando ci siamo sentiti una volta un paio d'anni fa ti ho mai detto che bello finalmente è uscito Giona delle sequoie un libro che mi dicevi mi è costato anni e anni di lavoro sofferenze ricerche eccetera ma Giona in qualche modo sei tu rappresenta la tua vicenda umana si può dire così allora sì Giona delle sequoie è uscito dopo dieci anni di lavoro amati ma anche devo dire appunto affaticanti e affaticati per buon piani ed è stato un libro che quando io l'avevo pensato sarebbe stato un libro avanti diciamo quando poi è uscito era un libro insieme a tanti altri tra l'altro tipo tre settimane prima è uscito quello che è stato il caso forse dell'anno che era proprio dedicato alle sequoie quel famoso romanzo che ha vinto il Pulitzer proprio quell'anno lì quindi come maniera no è stata una sorta di taglia gambe perché ovviamente tutti i giornali parlavano delle sequoie di quel libro che era il libro dell'anno e ovviamente quando è uscito poi il mio tre settimane dopo si è trovato dico terra bruciata però va bene sono cose esperienze che talvolta nell'editoria possono capitare sono anche come dire degli insegnamenti e quindi prendiamoli come insegnamenti l'importante per me era riuscire a arrivare in fondo a quell'esperienza perché rimane il libro che io sono più legato insomma anche perché ci ho lavorato tanto ma proprio perché esprime quello che fosse tutto il percorso che io ho fatto nell'arco degli anni quindi da una persona che si ritrova senza famiglia e inizia a vagare nei boschi nelle foreste a un certo punto attraverso delle parole nuove delle nuove chiavi per riuscire a avere un rapporto con la natura con il mondo e con il resto anche dei propri simili riesce a conciliarsi anche grazie alla presenza di queste enormi sequoie in soldoni no? l'assunto di tutto il libro è questa cosa qua poi il libro ovviamente come tanti libri che ho scritto io sono a più strati per cui c'è la venatura storica c'è la venatura ambientalista c'è la venatura fantasiosa per cui per esempio in tutto il libro io a un certo punto quando incontro una grande sequoia di cui racconto le storie i nomi dove si trova come è fatta a un certo punto mi appoggio come se fosse un personaggio che si stacca quasi romanzesco che si stacca dal racconto dalla descrizione e appoggiando la nuca a queste grandi sequoie io immagino che dentro succeda qualcosa per cui io ricordo lì dentro ho messo i ricordi di mio padre e mia madre quei pochissimi ricordi che ancora ho perché nonostante siano mancati da non tanti anni nella mia vita almeno è un fatto che io mi ricordo di quasi nulla di loro anche lì vai a capire comunque così e quindi mi sono reso conto di quanto poco in realtà io ho ancora di quelle esperienze lì e sono finite tutte come immaginazioni come se ci fosse una voce all'interno di questi grandi alberi che raccontano questi episodi di queste figure e poi ci sono ancora tanti altri canali adesso non sto qui a raccontare tutto il libro anche perché è abbastanza spesso e è stata un'avventura scriverlo appunto perché per tante ragioni un po' perché in Italia c'è anche l'idea che di America per esempio possono scrivere gli americani chi meglio di loro no mentre invece un italiano che scrive di America è più difficile da vendere c'è un po' questa idea l'italiano scrive d'Italia scrive dei nostri boschi dei nostri alberi però io non sono tanto convinto non sono mai stato convinto tanto di questa idea infatti da buon bergamasco quale sono ho continuato e alla fine la cosa si è si è manifestata in questi modi qua e comunque Giona resta un libro a cui io ho dedicato tanto tempo e che ho amato parecchio insomma questo Giona delle Seguoie il nome il titolo ovviamente nasce dal Giona della Bibbia quel Giona che viene catturato come sapete come vi ricorderete della famosa pancia di questo grande pesce che poi noi spesso associamo a Pinocchio che è finito nella balena che poi in realtà non è una balena ma è un pesce anche quello comunque sta di fatto che Pinocchio è un Pinocchio che Giona finisce in questa pancia perché per un motivo che Dio conosce benissimo ce lo racconta insomma nel racconto biblico dell'Antico Testamento cioè ovvero a quel punto questo uomo questo Giona questo profeta che nega se stesso perché lui voleva fare il contrario di quello che Dio gli diceva gli ordinava e a un certo punto si ritrova dentro questo pesce quindi tutta la sua libertà si annienta si annulla e a quel punto lui scopre la vocazione quando non può più scegliere in quell'enorme silenzio privo di libertà che è questa condizione di immensa costrizione ovviamente Giona scopre in realtà la sua la sua vera vocazione scopre Dio in quel momento lì definitivamente e poi quando ha testimonianza di questo Dio lo fa liberare e quindi poi lui farà veramente diciamo compiutamente il profeta nel resto della sua esistenza ora io non è che voglio fare il profeta e non sono un profeta di niente se è ben chiaro però mi è sempre piaciuta quest'idea dell'uomo che a un certo punto ha contatto con delle con qualcosa di assolutamente misterioso tu parlavi di mistero della montagna si trova invece a mettere in discussione la propria identità e anche a capire qual è la propria fede qual è il valore nella propria quotidianità della propria fede che cos'è questa fede e mi sono reso conto che avendo a che fare con i grandi alberi per me questo è è sempre stato un grande confronto è sempre stato un modo per ricalibrare anche il modo che io ho di affrontare il rapporto con quello che è la vita per cui questi immensi alberi sulle sequoie chi non le ha viste in California non se le può immaginare perché anche se hai visto delle foto perché noi in Italia abbiamo in Europa abbiamo degli alberi molto belli anche molto grandi però la dimensione delle più grandi sequoie è talmente mastodontica rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere qua che in realtà non può immaginarsi quanto noi ci riduciamo quando siamo di fronte a questi giganti alberi alti fino a 115 metri larghezze dei tronchi di 30 32 metri quindi saremo tutti dentro l'abbraccio dentro di queste grandi sequoie e allora lì davanti a questi giganti di 1500 2000 anni di vita ovviamente noi siamo veramente molto molto piccoli è una bella sensazione però come tante cose della natura è anche uno spavento nel senso io amo a me piace la natura mi piace sempre perdermi per quel poco che io posso almeno nella natura però c'è anche un aspetto della natura che è sempre un po' inquietante e secondo me è giusto ricordare anche questo non pensare solo che la natura sia fiorellini poesiola e incanto c'è tanto nella natura che invece ci riporta anche la nostra dimensione di uomini che a un certo punto finiranno questo viaggio e io quando sento dire a me la paura la morte non mi fa nessun effetto rimango sempre un po' esterefatto perché credo che invece sia normale sia umano quanto anche questa condizione e tutta la fragilità della vita per noi e per le persone a cui noi vogliamo bene ovviamente deve darci delle sensazioni non possiamo essere così assuefati o così presuntuosi da mettersi di fronte a queste cose e dire no tipo cavaliere senza macchia no tipo Clint Eastwood da col pistolero no io non ho paura di niente basta c'è chi lo fa secondo me un po' mente perché invece sono cose sono esperienze che appartengono profondamente a quello che siamo e anzi la paura in montagna ti salva la pelle non solo in montagna tantissime volte perché esiste e mica perché lì per caso insomma un po' mente che è un po' mente che è un po' mente Grazie a tutti